Sì, Mota Carbaio che apre a sinistra per Ciuso. Ciurria, la chiusura di Birindelli, palla dentro! Altrimento di Ciurria a Botteghin. Botteghin! Calcio di rigore. Per sì che perde questa palla sull'incursione di Ciurria. Ciurria va in area di rigore, entra Ciurria, il tocco di sì, altro calcio di rigore. Chiude il triangolo, ancora Ciurria, il pallone dentro, il vantaggio del Monza! Finta il cross, vada da Alessandro, in velocità da Alessandro, arriva sul fondo, mette il cross a Ciurria! La pareggia il Monza, a quattro dalla fine, Patrick Ciurria! Batte Di Gregorio. Palla lunga, sul limite, la spizzata di Dani Mota, mischia, Favilli, non ci arriva, colpo di testa in pallonetto! E c'è il gol del pareggio del Monza, il pareggio di Ciurria! Ciurria! Ancora l'opportunità per Ciurria, il tiro a rete! Ciurria! Franca, Donnarumma, sbaglia, se ne va Ciurria che è solo, è solo Ciurria davanti al portiere, Ciurria! Ciurria! Il Monza è avanti 2 a 1, Cramo Rosso! Il Monza in 9 e avanti 2 a 1, Cittadella! Ciurria sotto la curva dei tifosi del... Tocca troppo largo il pallone, alla fine Ciurria arriva lo stesso, può andare con il sinistro e trova un gol meraviglioso! Il 2 a 0 del Monza! Capo lavoro di Patrick Ciurria!